Ancora una richiesta di archiviazione per Freddy Pacini, il gommista di Monte Senzavino, che nella notte del 28 novembre 2018 sparò al ladro che si era introdotto nella sua officina, uccidendolo. Questa volta a chiederla è stato il procuratore Roberto Rossi che ha ereditato il fascicolo dal PM Andrea Claudiani, trasferitosi a Perugia e che già aveva avanzato la stessa richiesta. Ma il GIP Fabio Lombardo aveva respinto la proposta ordinando un supplemento di indagini di sei mesi e indicando punto per punto i passaggi che andavano approfonditi. Portata a termine di fatto l'impianto della procura resta però immutato, che torna così a chiedere l'archiviazione per legittima difesa. La decisione adesso passa di nuovo nelle mani del giudice per le indagini preliminari, tra le possibilità archiviazione accogliendo così la richiesta, ulteriori nuove indagini oppure imputazione coatta col reinvio del fascicolo alla procura per mandare comunque a processo il gommista. Freddi Pacini, esasperato dai furti subiti, da anni dormiva all'interno della sua officina in via della Costituzione. Quella drammatica notte fu svegliato dal rumore del vetro del portone che si infrangeva sotto i colpi di piccone inferti dai ladri. Fece così fuoco con la pistola regolarmente detenuta. Due proiettili raggiunsero Vitali e Mircea Toncioc, 29enne, Moldavo. Uno risultò fatale, provocando un'emoragia interna. La vicenda nei mesi scorsi aveva suscitato anche l'interesse della politica nazionale, con Matteo Salvini che sin da subito era sceso in campo a difesa di Freddi, seguito poi anche dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.